Ciao a tutti amici di Varese, nonostante il mese di agosto per definizione vacanziero, però le notizie del capoluogo non mancano neanche questa settimana, con una premessa, tra le tante cose che vogliamo raccontarvi ci soffermiamo prima di tutto su quella mini inchiesta che Rete55 ha voluto dedicare ai cimiteri della città, o meglio alla manutenzione dei cimiteri della città, cioè al loro decoro, al rispetto per chi vi riposa e al rispetto per chi li frequenta e va a visitare i propri cari estinti. Sì, perché ne abbiamo visitati soltanto tre nell'arco di questi ultimi giorni e siamo rimasti letteralmente sconcertati dall'assenza pressoché totale di cura e di manutenzione. Erbacce, camposanti simili a giungle, aree inagibili e transennate ormai da anni, non è possibile che un bene pubblico per eccellenza, che in altre città fa addirittura da biglietto da visita monumentale, sia così tanto trascurato. Allora vi riproponiamo questi servizi anticipando che peraltro la Lega, quindi una forza di opposizione, ha preso spunto da questi servizi, traducendoli in un'interrogazione comunale urgente all'amministrazione di Palazzo Estense e ci auguriamo che questo possa smuovere qualche reazione e naturalmente che possa farlo subito. Poi parliamo anche di cantieri, di Largo Flaiano, di ospedale e altro. Buona visione. Erba alta, sterpaglia e lapidi ormai inghiottite dalla vegetazione incolta è il cimitero di Bizzozzero, camposanto storico quanto frequentato da centinaia di residenti e ciò nonostante a dir poco inospitale. L'impressione è che i lavori di manutenzione, cura e semplice giardinaggio siano ormai un lontano ricordo e queste foto scattate domenica da una nostra telespettatrice testimoniano uno stato di abbandono e degrado che non fa onore al capoluogo. L'appello di Rete 55 al comune di Varese è chiaro, intervenite perché a fianco di cantieri e grandi opere esistono biglietti da visita che fanno riferimento a una semplice parola, dignità. Quando varchi la soglia apparentemente sembra tutto in ordine, col vialetto i cipressi, il colpo d'occhio simile a quello di tante altre volte, ma se presti maggiore attenzione il cimitero di Giubiano cambia volto e si avvicina purtroppo a quello di Bizzozzero, con le erbacce alte un metro e le tombe pressoché inghiottite dalla vegetazione incolta. Un ulteriore tassello nel degrado dei camposanti di Varese città che dovrebbero essere ben custoditi per ragioni culturali e simboliche, oltre che pratiche. In questo caso poi, anche per motivi di sicurezza, le erbacce portano insetti e addentrarsi in abiti estivi in questa piccola giungla può riservare spiacevoli sorprese. Manutenzione quindi, senza sé e senza ma. Ci risiamo, è bastato aprire il capitolo Cimiteri degardati della città di Varese per collezionare una serie di brutte sorprese. Dopo la giungla di Bizzozzero e le erbacce di Giubiano, eccoci al cospetto dell'eterno cantiere di Belforte. Il cimitero monumentale per eccellenza, quello che racchiude un'ampia fetta di storie a Varesine, che ogni anno accoglie alcune delle cerimonie più significative, presenta da anni questo triste colpo d'occhio, un'area transennata perché inagibile. Nessun intervento, nessuna azione concreta, solo un cauto di vieto affinché nessuno si avvicini. Ad andarci di mezzo, tra gli altri, l'omaggio agli esuli di Istra, Giulia e Dalmazia che in loco trovano, o meglio dovrebbero trovare, un solenne punto di preghiera e raccoglimento. Prima quattro chiacchiere, due risate col presidente della regione Fontana e il sindaco Galimberti, poi l'incontro con una manciata di giornalisti locali, come tutti i grandi. Giancarlo Giannini è di una schiettezza assoluta e parla così, senza filtri, senza rete, anzi senza copione. Gli attori italiani, non di liberare, quindi? Ma no, vedi. Avivano sempre usati come mafiosi? Avivano sempre usati come immigrati? Beh, sì, è vero, è vero. Anche a me ogni volta che mi chiamano, non mi chiamavano e rifiutavo. Volevano che facessi l'italiano del sud. Ma che vuol dire l'italiano del sud? Capirai, un napoletano e un siciliano sono completamente diversi da tutti, siamo tutti diversi per le cose. Quindi non... e rifiutavo, con grandi registi anche. Ma lei ha fatto storie anche come doppiatore. Sì, ma quello del doppiatore è una monstruosità. Dare la voce a uno che parla l'inglese o parla il cinese. Gli italiani sono stati i più bravi come doppiatori, la scuola migliore è stata in italiano. Io ho cominciato così, facendo addirittura di nascosto, quando facevo l'Accademia, i brusii perché non si può lavorare, per guadagnare un po' di soldi. Il brusio, sai che cos'è? Quando i due attori principali parlano, Richard Barton e Liz Taylor, magari sono in un bar e ci sono quelli che parlano, fanno il brusio, si chiamano, e tu devi sempre dire piano piano, ora barbaro, ora barbaro, ora barbaro. Tutti dicono ora barbaro. E così mi facevano fare. E quello è il brusio, una cosa. Ho cominciato il doppiatore così, poi insomma l'ho fatto, ma il doppiaggio è una tecnica come tutti i mestieri, bisogna avere molta tecnica. A me risulta facile, perché avendo fatto l'elettronico sono abituato con gli oscillografi, con i tempi, con gli schemi. Quindi andare a sync non era così difficile, però dare voce a un grande attore non è così difficile. A fare 007, quanto si è divertito? Ma io mi diverto sempre. Se non mi diverto, come si chiama questo mestiere? Jouer, to play, in tedesco lo stesso. Solo in Italia siamo interpreti, vabbè, artisti, vabbè, così. Ma si gioca. Quando da bambino ti vestono da biancaneve o zorro, ti senti così. Quello è. Per quello devi rimanere il fanciullo, solo perché lo fai. Infine, la breve incursione politica, la premier Meloni, gli piace. A me sì, molto. Molto. Perché ha le palle, come posso dirlo. Le cose. E' una che... Cioè, nel lavoro tu vuoi fare una cosa, devi andare avanti, non sai nulla, però se tu cominci a studiare, vedrai che qualcosa viene fuori. Grandi manovre in Largo Flaiano, a Varese, dove lunedì mattina sono approdate le prime travi di 22 metri che costituiranno la struttura del nuovo ponte. Si tratta di un elemento chiave per il nuovo arrivo in città che consentirà l'eliminazione del semaforo in ingresso. A intervento ultimato, coloro che raggiungeranno il capoluogo dall'autostrada dei laghi troveranno, al termine della cosiddetta bretella, una nuova rotonda, concepita per snellire e fluidificare il traffico di uno degli snodi più frequentati in entrata e in uscita. Il nuovo ponte sarà realizzato prevalentemente nelle ore notturne e nell'arco delle prossime settimane. Si tratta, dicono dal Comune, di un passaggio cruciale in vista del nuovo assetto di Largo Flaiano. Entrano nel vivo i lavori in Largo Flaiano, destinato a diventare nuovo ingresso e nuova uscita di Varesi città. Le travi di 22 metri, giunte in loco grazie a trasporti eccezionali, faranno da supporto alla nuova rotonda che eliminerà i semafori di inizio e fine bretella, agevolando il traffico in uno dei più frequentati approdi al capoluogo. Sul posto la notte scorsa il sindaco Davide Galimberti. A pochi passi un altro cantiere, quello del faro di Fondazione Ascoli. All'auspicio che il nuovo Largo renda più fluido il traffico, si aggiunge infatti l'elemento sociale che renderà l'area ancora più pregevole quando la nuova palazzina darà alloggio alle famiglie dei bambini ricoverati in ospedale. Addio all'ex geriatria, benvenuto il Day Center 2. I lavori in corso all'ospedale di Varese entrano nel vivo abbattendo uno storico padiglione del circolo per dare spazio e funzionalità ad ambulatori e servizi. Sul piatto ci sono 18,4 milioni di euro e il completamento dell'opera è previsto per giugno 2025. Inaugurato il 17 giugno 1960 è dedicato ai benefattori Giuseppina e Archile Cattaneo, il vecchio padiglione è un esempio di lungimiranza, visto il proposito dichiarato di curare le cronicità. Oggi parola d'ordine, allora fulgida intuizione di una comunità destinata a cambiare e incanutirsi. Pensato dal dottor Mario Beretta di Bizzozza, un nipote del Cavalier Cattaneo, fu progettato da Carlo e Franco Niade e costò oltre 200 milioni di lire. Anche per questa settimana è tutto, se potete godervi un po' di vacanze vi auguro buone ferie, altrimenti Rete55 vi aspetta e il TG7 sarà con voi ogni giovedì alle 20 e in replica il giorno successivo, all'ora di pranzo. Grazie.